ciao a tutti oggi qui abbiamo una motosega dolmar di una ventina di anni fa se non 30 che un mio amico che è un appassionato di vespa come me che si chiama davide me l'ha portato a dargli un'occhiata perché non usciva l'olio sulla catena poi io l'ho sistemato come filmato lì non l'ho fatto faccio fermata la gestione per farvi vedere come gira secco sto motosega che è pesantissimo ma comunque lavorare con una cosa così da spattarsi le braccia però ti faccio vedere come gira io devo mettere la secco si verifica anche se è vero l'olio è sempre a testa vedete che esce da qui l'olio quindi dovete avere forza adesso vola quindi va bene io lo fa una meraviglia è pesante eh tenere però a motore è potente ci vediamo nei prossimi filmati ciao a tutti